E cosa nota che per arricare danno a padre Pio il demonio arrivava addirittura a compromettere le lettere scritte al santo di Pietralcina ad opera del suo padre spirituale, in quanto così facendo il maligno negava a padre Pio il conforto che egli trovava in quelle lettere, che spesso il suo padre spirituale gli scriveva per alleviare la sua sofferenza nei momenti difficili. Per esempio, in una lettera di padre Pio al suo padre spirituale si può leggere quanto segue La vostra ultima missiva venne aperta alla presenza della riciprete di Pietralcina e a nostra grande sorpresa vi trovammo dentro un foglio bianco, il maligno aveva cancellato tutto. Il direttore spirituale iniziò quindi a scrivere a padre Pio in francese o in greco, nell'ingenua speranza che il demonio magari non conoscesse quelle lingue. Chiaramente la cosa non funzionò. Un giorno in una testimonianza di Monsignor Salvatore Pannullo si poteva leggere. Un dì arrivò a padre Pio una lettera scritta in francese dal suo padre spirituale. L'arciprete di Pietralcina, che spesso apriva le lettere del padre, l'aprì e ritrovò dentro un foglio tutto macchiato di inchiostro, che era totalmente illegibile. L'arciprete sapeva però che il maligno faceva spesso i dispetti a padre Pio e che spesso colpiva le sue lettere per cercare di arrecargli danno. Decise quindi di benedire con acqua santa la lettera che improvvisamente vide cambiare sotto i suoi occhi. Infatti le macchie d'inchiostro si dissolsero e la lettera divenne subito leggibile. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!